Grazie a tutti, grazie per essere venuti qui e per la partecipazione a questo talk. Oggi abbiamo aperto Mia Photo Fair 2024, siamo particolarmente contenti di essere riusciti a mettere insieme un panel così ricco con incontri di varie nature e soprattutto con il contributo veramente di intellettuali e di professionisti di altissimo livello per cui è davvero per noi una soddisfazione. Un ringraziamento particolare va alle mitiche, come le chiamo sempre io perché il manifesto dell'abitare è stato un incontro arrivato quest'anno per la prima volta poi abbiamo scoperto in realtà che i nostri percorsi si erano già incrociati per altre vie però insomma finalmente quest'anno riusciamo ad avere la loro presenza all'interno del contesto fieristico e anche all'interno del nostro panel, quindi siamo particolarmente contenti. Io ringrazio i relatori che non solo ci hanno dedicato e ci dedicano il loro tempo ma soprattutto che contribuiscono insomma alla bellezza di questa manifestazione. Cedo la parola e grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Noi volevamo ringraziare come sempre Alessia e Monica che ci permettono di metterci alla prova e ogni anno è una sfida sempre più interessante. Io sono Laura Merlin, direttore creativo per l'azienda Tetris Design & Build. Noi ci occupiamo di tutt'altro, facciamo uffici e hotel e con i miei colleghi mi sono dedicata per questo progetto a cercare di ragionare in un campo un po' diverso rispetto a quello che diciamo è il nostro solito. Essendo il mia Photo Fair un contesto legato molto alle immagini abbiamo scelto di usare come supporto appunto le immagini però generate dall'AI quindi anche con una modalità nuova di creare contenuto e rispetto ad un problema così vasto abbiamo deciso di analizzarlo e fare più una denuncia che trovare una soluzione. Per cui abbiamo preparato un pannello, il titolo è Disposable Water con il punto di domanda in cui abbiamo raccolto per immagini un po' tutte le tematiche che rappresentano le problematiche legate all'acqua al giorno d'oggi. Io parto con questo video che riassume le immagini che sono state poi montate anche nel pannello. Di base abbiamo scelto di creare un percorso di scala cromatica raccontando i problemi dell'acqua partendo dal giallo quindi dalla siccità arrivando poi all'inquinamento quindi è una scala cromatica che va dal giallo e arriva al grigio scuro appunto con queste immagini volevamo raccontare prima il problema della siccità nei paesi del terzo mondo accompagnato poi all'aumento delle impermeabilizzazioni delle città in un contesto industriale e quindi al sempre più frequente problema dell'allagamento l'aumento del livello dell'innalzamento delle acque l'inquinamento con plastiche e microplastiche legate al mare e l'utilizzo diciamo spropositato all'interno del nostro contesto privilegiato dell'acqua in un contesto domestico quindi l'utilizzo che abitualmente ne facciamo l'utilizzo esagerato di acqua per le nuove tecnologie anche l'AI e tutto ciò che riguarda i computer utilizza una quantità di acqua estremamente grande rispetto alla quantità disponibile e poi fino ad arrivare al paradosso di luoghi molto secchi e molto diciamo ricchi che si permettono di utilizzare sia per l'agricoltura che per la creazione di campi da golf o isole di ripascimento artificiali dei contesti verdi che normalmente non possederebbero quindi diciamo è una denuncia la nostra per questo titolo disposable water come mai un elemento che è così importante sia nella costituzione dell'essere umano proprio in sé perché dal 50 al 60% del corpo di un essere umano è composto dall'acqua la superficie del nostro pianeta 70% coperta di acqua eppure pur essendo un elemento così importante ancora non si fa abbastanza per rispettarlo e utilizzarlo in modo corretto quindi sperando che questo nostro lavoro sia visibile soprattutto alle nuove generazioni che sembrano essere molto più sensibili a questa tematica dell'inquinamento e della sostenibilità volevamo alzare la nostra voce e prendere una posizione rispetto all'utilizzo dell'acqua grazie a tutti grazie grazie Grazie. Grazie. Grazie Anna. Grazie a tutti. 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 per averci ascoltato. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sono Filippo Taidelli e presento una fotografia, non presento un progetto di architettura. nonostante il nostro studio si occupi principalmente di umanizzazione degli spazi della cura, quindi ospedali e residenze. Grazie a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti ad Alessia e a Monica che ormai sono, io le definisco le mai più senza perché ormai una volta conosciute non riesco più a staccarmi. e mi unisco anche a Tetris nel voler così lanciare un po' un'osservazione, una provocazione piuttosto che una, purtroppo piuttosto che una risposta sul tema dell'acqua. Innanzitutto dal punto di vista biologico siamo ovviamente molto legati all'acqua, nasciamo in una placenta piena d'acqua, chiamiamola acqua, siamo fatti di tre quarti di acqua e viviamo in un pianeta che per il 97% acqua. Ma l'acqua è anche la matrice fondamentale della nostra civiltà, cives, città, torniamo all'architettura, perché la culla della civiltà, così chiamiamo quelle zone territoriali, quelle che studiavamo all'elementare, i sumeri, la mesopotamia, il tigri, le ufrate, nascono, hanno un punto in comune, non è una sola, la culla della civiltà, sono quelle che vedete evidenziate circa 3.000 anni avanti Cristo, la caratteristica è quella che nascevano sempre lunghi corsi d'acqua, per ovvie ragioni. E lì sono nate le città, è nata l'architettura, è nata la scienza, è nata l'osservazione delle stelle, sono nate le religioni, è nata la scrittura, quindi diciamo l'acqua è ben più che un fattore biologico. E proiettandosi 5.000 anni dopo, nel 2050, noi stiamo vivendo già la vigilia di un momento di una grandissima migrazione climatica, si parla addirittura di 150-200 milioni di persone che principalmente del continente africano, asiatico e del Sud America migreranno. Perché migreranno? Migreranno principalmente per motivi climatici, per la siccità, per la mancanza d'acqua o per la troppa acqua, i livelli dei mari si innalzano, la provocazione anche dell'inalzamento della temperatura, incendi e quant'altro già conosciamo. I due terzi delle cause sono imputabili al tema del clima e la maggior parte di queste sono imputabili alle azioni dell'uomo che generano questi fenomeni. Bene, la fotografia che presento è una vista satellitare che rappresenta un deserto di Sonora in Arizona, ma non interessa tanto il contesto geografico quanto l'aspetto evocativo. Perché al di là di quelle che sono le conseguenze delle nostre azioni sul clima, c'è un fenomeno che viene chiamato water grabbing, per il quale molti Stati, purtroppo, utilizzano falde acquifere e risorse di popolazioni vicine, in maniera, diciamo, smodata o addirittura volontariamente per indebolire e come arma di pressione sociale e umanitaria su altre popolazioni. Questo capita, per esempio, ancora prima dell'attuale guerra tra Israele e la Palestina, ma capita in tante altre aree del mondo. Un livello intermedio di quello che è il consumo dell'acqua indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, indica in 80 litri la media dei litri che dovrebbero essere utilizzati per un livello igienico-sanitario standard per ogni abitante. Ecco, lungo quel confine che vedete in un'ipotetica fotografia, che è quella che si vede dal di là del vetro, si creano due realtà completamente diverse. Una a destra tutta verde, scandita da campi colorati, anche bella potenzialmente, ed una completamente desertica e arida. Ecco, quella sta, in termini di litri, potrebbe essere rappresentata dai 300 litri che vengono utilizzati dagli abitanti israeli, che utilizzano la falda acquifera che è sotto la striscia e sotto Gaza, utilizzano l'acqua e la rivendono in Palestina. In Palestina dove, in Gaza in particolare, ci sono due litri d'acqua per abitante. Questo fenomeno ovviamente ha delle ripercussioni a livello sanitario importantissime, problemi di epidemie e problema sanitario elevatissime. Ecco, quindi la conclusione è che siamo circondati da grandissime potenzialità dell'acqua, però molto spesso non le utilizziamo. E abbiamo, come architetti, per tutti quelli che sono qua, grandissime responsabilità, visto che nel 2050 l'80% della popolazione vivrà in città, e visto che all'incirca il 40% delle emissioni di CO2 prodotte dal settore dell'edilizia hanno un peso importante verso la nostra attività e comunque è anche una grande potenzialità creativa per noi immaginare una nuova civiltà dove questa nuova popolazione che migrerà si troverà a vivere. Grazie. 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 Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Volevo intanto ringraziare il Manifesto dell'Avitare che veramente riesce a mettere insieme un gruppo di lavoro interessantissimo, creativo, dove ci sorprende sempre. Infatti oggi entrando in quella stanza, vedendo tutte le rappresentazioni che ognuno di noi ha fatto con l'acqua, sono rimasta sorpresa proprio dal modo diverso che abbiamo di approcciare e di creare sui temi che ci propongono. Io ho pensato, quando mi hanno chiesto, intanto noi progettiamo solo giardini, quindi il tema dell'acqua è assolutamente fondamentale e quindi ho pensato di raccontarvi un po' l'esperienza che ho avuto adesso di un giardino che non è ancora finito, infatti vedrete delle foto in corso d'opera, di un giardino in Sicilia. Voglio solo darvi un dato, prima ancora di cominciare a leggervi, andiamo un po' indietro, scusami. E' un giardino che non ha prato, perché immaginiamoci che un prato per rimanere verde d'estate ha bisogno di 5 litri al metro quadro di acqua al giorno, quindi se noi abbiamo 100 metri quadri significa che abbiamo 500 litri che ogni giorno per tenere il prato verde dobbiamo consumare. Quindi i giardini del futuro stanno andando sempre più in direzioni di assenza di pirato. Sto parlando di giardini o di parchi o di qualsiasi cosa. Il mare Nostrum e l'isola nel suo centro sono stati il crocevia perfetto dove popoli e storia hanno lasciato nei millenni la traccia del loro passaggio. Di questi passaggi la traccia non è solo quella minerale costruita o di cultura, ma anche di cultura. Le specie botaniche, le loro caratteristiche fisiologiche e sociali e la loro origine impregnano le coste del Mediterraneo. Questo è ancora più vero nel giardino siciliano, che è uno scrigno dove la diversità e la memoria hanno un eco viva apprezzabile nella quotidianità del nostro rapporto con il luogo in cui viviamo, mangiamo e riposiamo. Nel nostro lavoro a nota abbiamo voluto fare un tributo a questo sedime ricco di storia, scegliendo frutti e piante antiche, senza però tralasciare la dimensione dell'innovazione. La ricerca ci ha anche spinto all'inserimento di nuove specie allogene, particolarmente adatte al contesto, minimizzando la necessità di acqua. A tale proposito mi viene in mente un recente testo di Barbera del Giardino Mediterraneo, storie e paesaggi da Omero a Antropocene. È un'affascinante avventura del giardino siciliano che evolve dal luogo di piacere la bellezza e spiritualità al luogo dell'utile, o ancora dell'evasione del sogno o del collezionismo botanico. Il fulcro del racconto è l'introduzione di nuove specie vegetali che determinano l'evoluzione del paesaggio prima greco, poi romano, poi arabo. Le specie botaniche sono infatti storia viva che vengono e cambiano, come per esempio il fico d'India, che vedete qua nella foto, che è importato da Mesoamerica, è il frutto della lunga dominazione e non ha bisogno di acqua per crescere. Il giardino siciliano è uno scrigno di biodiversità, un patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche un ecosistema fragile. Oggi il mito dell'oasi è minacciato dal cambio climatico, dalla drastica riduzione dei giorni di pioggia e l'aumento dei fenomeni meteorologici straordinari. Calore prolungato, siccità e precipitazione concentrate sono infatti una combinazione letale per un giardino. Il nostro progetto si inserisce dunque in uno sforzo che ha il centro risparmio idico. Abbiamo lavorato qui su due fronti. In primo luogo abbiamo scelto specie botaniche capaci di rispondere positivamente alla sfida del clima, stipa, cestrum nocturmo, elicriso italico, aloe vera, che dopo vedremo al volo. In secondo luogo si è predisposto un sistema di irrigazione che si avvale di un pozzo artesiano, insieme a tecniche di irrigazione tradizionali, pendenze, terrazzamenti in pietra secco e serbatoi d'acqua. A questo si aggiunge un impianto smart di ultima generazione, capace di ottimizzare l'irrigazione sulla base di parametri indicati dai sensori dislocati nei diversi punti del giardino. Allora, ho voluto leggere solo per fare un'introduzione più semplice al fatto che intanto è fondamentale quando al giorno d'oggi avere delle piante che abbiano un bassissimo consumo di acqua. Il problema anche nei cantieri è che quando devono costruire degli edifici distruggono la macchia mediterranea che magari la macchia mediterranea ci mette un sacco di tempo prima di essere quella che è il vento, l'acqua, le radici profonde fanno un'ossatura che in realtà è preziosissima. Cosa succede? Noi arriviamo nei cantieri, noi tutti, e distruggiamo. Quindi questo è un po' l'inizio di quello che io mi sono trovata per, prima di, ricucire poi la questione. Dove vado? Scusami. Grazie. Il concetto di solito è quello di creare delle stanze a cielo aperto, questo è il progetto dove ha tematiche diverse, quindi in prossimità della casa è come, diciamo, l'organizzazione di una casa, no? Il living room, dining room, una zona relax e via dicendo, quindi ecco qua che piano piano vediamo la trasformazione del luogo. Giardino siciliano con le palme, simbolo della prosperità. Stanza, dining room a cielo aperto, ombra fondamentale. Ecco qua il giardino che piano piano sta crescendo, quindi la ricocitura di quello che hanno distrutto, che per loro magari era una comodità di arrivare a costruire, e però poi bisogna ricucire, rifare, rendere gradevole. Queste sono tutte piante che hanno bisogno di poca acqua. All'inizio tutte le piante hanno bisogno di acqua, tranne quelle grasse, che però fare un giardino di piante solo grasse è un po' ancora poco naturale. Questa è una seduta che poi abbiamo creato sotto un carrubo perché d'estate sotto i carrubi ci sono circa 10 gradi in meno. Il carrubo è altro che le tende o le zone d'ombra. Come potete vedere un giardino in divenire, queste sono piante velocissime a crescere, goccia dopo goccia, fino ad arrivare a avere necessità idrica pari a zero. C'è bisogno di un buonissimo drenaggio perché come l'acqua è fondamentale, anche la troppa acqua è pericolosa, fa male. Ecco che il giardino piano piano sta crescendo. Queste sono un po' le erbe tipiche del selvatiche, che si vede sui cittadini della natura. C'è all'interno un obiettivo non solo del bello ma dell'utilità, quindi aloe, elicriso, piante che servono anche utili, quindi non solo gradevoli. Questa è la prima parte che avevamo fatto e quindi si può vedere in realtà le piante che sono già un po' più grosse. Questa era in una stagione invernale, quindi il prato è verde da solo. Se facessimo la stessa foto nella stagione estiva è praticamente brullo. L'acqua, la piscina, le zone in fondo c'è un frutteto, appunto, come ho detto, con i frutti antichi. E questo è un accenno delle infinità di specie botaniche che abbiamo usato, a grandi macchie, un po' cercando di prendere spunto dalla natura, dove tutte queste piante hanno nel futuro poi bisogno di acqua pari a zero. mediterranei, tipiche delle coste, facili al vento e anche possibilmente utili, quindi edibili o utili anche per la fitoterapia. Grazie. Adesso lo studio Camerana, che ci presenterà il waterfront di Messina. Non c'è Benedetto. Presentatevi ragazzi. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Funziona. Funziona, sì, funziona. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Comincio subito con ringraziare Alessia e Monica per aver organizzato questa magnifica collettiva di architettura in questa cornice del mia photo fair. Come anticipato, noi presentiamo un progetto che è strettamente collegato con l'acqua, appunto la città di Messina. Questo progetto su cui noi stiamo lavorando da moltissimi anni, l'architetto Bosco potrà introdurci al meglio e raccontare le nostre fasi di lavorazione. Buonasera, vi ringrazio per l'invito e vi racconto un'altra storia siciliana, come ci ha raccontato Archietto Ruspa. Questa è una storia che si sviluppa attorno a un luogo mitico, lo stretto di Messina, noto in senso mitico già ai tempi omerici e poi rimasto nell'immaginario collettivo. La prima volta che sono andato a Messina a vedere questo luogo mitico ho scoperto che la realtà era molto più prosaica. Infatti la città di Messina si affaccia su questo stretto, su questo luogo incredibile, quest'unicum geografico, attraverso un'area industriale e una ferrovia. Quindi l'obiettivo del piano che ci è stato richiesto dal Comune è ricucire questa cesura fortissima che ha la città con quello che è uno degli elementi essenziali del territorio in cui si installa. Lo stretto di Messina è di fatto il centro di un'area urbana che è l'area di Messina-Reggio Calabria. L'aeroporto di Messina si trova in Calabria, a Reggio Calabria. Quindi questo specchio d'acqua è il centro di un'enorme area urbana che si estende su due sponde e la metà siciliana era rimasta completamente slegata da questo centro a causa di un intervento infrastrutturale che era nato in seguito al maremoto e poi ai successivi bombardamenti degli alleati che avevano reso quest'area poco appetibile per abitazione si è sviluppata come un'area di risulta. Abbiamo quindi sviluppato un piano che andasse a ricucire la città esistente che è una città caratterizzata da un tessuto molto regolare con la forma naturale della costa e l'infrastruttura che la collega alla città di Reggio Calabria. In questo modo attraverso un piano che si sviluppa più fasi abbiamo immaginato un recupero delle funzioni del mare per generare una nuova centralità urbana. In questa immagine potete vedere come si è stato immaginato uno sviluppo centrato su quello che è un quartiere marittimo, in questo caso lo vedete rappresentato con un porto turistico che è una delle alternative progettuali possibili e che alternativamente può essere sviluppato come un centro servizi per lo sport e il tempo libero che raccoglie tutto quello che è il bacino di utenza della città storica che si trova subito a nord-ovest, in questo caso in alto rispetto a fotografia e gli permette dopo quasi cent'anni di tornare ad affacciarsi sull'acqua. Poiché il piano è un piano urbanistico con una visione limitata nel tempo non abbiamo potuto stravolgere completamente questa cesura, andarla a ricucire profondamente non ci sarebbe piaciuto, infatti rimane il fascio ferroviario e per poter ricollegare il mare alla città abbiamo trovato una soluzione di andare a ricucire fisicamente per andare a mettere dei punti che sono rappresentati da questi scavalchi e pontili che continuando sulle direttrici di sviluppo a città superano il fascio ferroviario ed entrano nell'acqua, catapultano la città nell'acqua. Qui ci sono alcuni numeri che fanno capire la dimensione di questo progetto e la sua importanza per Messina. Stiamo parlando di un progetto di tre chilometri di costa in una città che si sviluppa da quel punto lì in salita verso le colline delle immagini che lo rappresentano qui si vede una versione di quella stessa area senza il porto turistico ma con questi servizi verdi naturali che raggiungono il mare. Un ultimo tema che è stato importante nella progettazione che si relaziona con l'acqua e il collegamento col mare è stato quello delle viste. Infatti, non so se sapete, ma una delle più antiche leggi urbanistiche che ci sono pervenute è una legge bizantina che imponeva di salvaguardare le viste sul mare. Noi, ricordandoci di questa storia, abbiamo recuperato questo valore fondamentale che è quello del diritto alla vista, in questo caso la vista sul mare, sull'acqua che è stato provato anche ad avere effetti psicologici benefici e abbiamo studiato un piano che permette a tutti i nuovi interventi ma anche alla presistenza di conservare o addirittura di avere delle nuove viste sul mare. Concludo dicendo che questo piano è ancora in fase di sviluppo stiamo chiudendolo oggi dopo molti anni di lavoro ed è un piano che punta a restituire appunto alla città di Messina il suo rapporto con quello che è la sua ragione d'essere che è il mare, l'acqua e lo stretto. Grazie. 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 Il prossimo studio è Lorena Alessio ci parlerà della bolla survival grazie Lorena e poi chiudiamo con la sessione di oggi Casalini Bartoli ci porteranno nel 2045 nella loro terra toscana Firenze e Pisa grazie Mentre scorre il video pochi sono Allora, è un studio di architettura ma innanzitutto anche io mi unisco ai ringraziamenti ho conosciuto Alessia e Monica che sono diventate mi permetto di dire amiche è un'esperienza molto bella ho conosciuto anche moltissimi di varie parti d'Italia allora la mia è una provocazione colgo ogni volta l'invito del manifesto dell'abitare per pensare a qualcosa di diverso non presento in realtà questo è uno spot pubblicitario per un futuro progetto però colgo l'occasione per pensare dal scorso anno al sublime alla meraviglia e quest'anno volevo pensare a qualche cosa che rispondesse alle problematiche climatiche di cui alcuni studi precedentemente hanno parlato per cui ho pensato e anzi ringrazio Rosalie Alessio che è qui anche oggi perché l'ho chiamata e gli ho detto dobbiamo fare qualcosa in cui noi vediamo immagini disastrose di inondazioni, aridità dobbiamo pensare anche di vivere su Marte e allora avevamo iniziato a mettere un mucchio di immagini di tutti questi tipi però veniva un gran pasticcio devo dire perché poi immaginavo appunto che noi a un certo punto dobbiamo vivere in una bolla e questa bolla però la volevo poetica perché non volevo la classica immagine di qualche cosa di super tecnologico ma che funzionerà sempre nel futuro qualunque cosa succederà ma volevo qualcosa dove rimanesse qualcosa della vita di tutti i giorni ho preso, sono andata in un parco io vivo a Taiwan ho vicino a casa un parco meraviglioso tra l'altro durante il terremoto di quali giorni fa questo parco si è mosso come un mare è brutto da dire ma era armonioso e ho iniziato a guardare cosa fanno le persone e le persone quando sorridono vedono una bolla di sapone vedono volare un aquilone e ho visto tutte queste cose e ho detto caspita ma noi non dobbiamo pensare anche alle abitazioni su Marte dove però dobbiamo poter avere questo e quindi ho chiamato Rosa lì l'ho detto nelle nostre bolle ci devono essere i parchi ci devono essere gli aquiloni ci dobbiamo ci dobbiamo essere noi che c'è una foto con noi che facciamo un pranzo tutti insieme e così via quindi in realtà si può secondo me costruire con un po' di consensio che ci può aiutare e quindi uno spot pubblicitario perché la posso progettare e vendere non so se fa ancora il video però magari scorriamo qualche immagine ma fondamentalmente questa è l'idea in fibra di vetro si possono unire le bolle si possono differenziare le stanze ecco come vedete c'è la stanza in cui si può vedere la natura la stanza dove si fanno correre gli aquiloni dove si fa ginnastica ma rigorosamente nella natura la stanza bla 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 perché è inutile parlare sempre tanto noi parliamo tantissimo ma cosa si fa alla fine si ricomincia come prima purtroppo mi spiace dirlo e poi fondamentalmente ricorrono le stesse cose che scorro appunto la farfalla ecco la la ragazza che legge sotto un albero poter vedere i fiori il poter fare tai chi nel parco come faccio adesso a Taiwan bla 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 e poi c'è la nostra ecco questo è il nostro tavolo di amici che la bolla ci permette ancora di condividere amicizia ed è comunque realizzata in fibra di vetro e appunto si possono di vedere parecchie stanze e questo è il numero di cellulare dove chiamare per ordinare una bolla grazie buonasera a tutti noi siamo lo studio Casalini Bartoli di Livorno e penso che siamo gli ultimi arrivati nel gruppo siamo molto emozionati di essere qui e molto orgogliosi anche perché è stato un incontro fortuito quello con Alessia e Monica che ringraziamo veramente tantissimo perché non ci saremmo aspettati un'opportunità del genere noi veniamo da Livorno siamo un po' lontani e ci dispiace tanto non poter partecipare a tutte le cose che fate insieme vi seguiamo da lontano siamo molto invidiosi soprattutto quando vi vediamo che vi trovate fate un sacco di cose interessanti cercheremo di esserci il più possibile perché comunque la vostra fama vi precede e noi abbiamo tanto da imparare da tutti voi e quindi ringraziamo tantissimo Monica e Alessia ovviamente e poi è importante dire che non siamo qui soltanto come studio di architettura che fa parte del Think Tank ma siamo anche designer della Lena Castonchiccia e in effetti è tramite questa cosa che abbiamo potuto conoscere le nostre ospite e quindi ringraziamo anche Francesca Lena che è qui e che ci ha dato questa opportunità dunque io lascerò parlare del nostro progetto l'architetto Chiara Simoncini che è un architetto del nostro studio l'unica cosa che dirò è che come avete potuto vedere se avete visto il nostro lavoro che è la Via Enrose abbiamo utilizzato anche noi l'intelligenza artificiale perché volevamo ottenere delle immagini molto di impatto e soltanto con questo nuovo strumento saremmo riusciti per noi è stata la prima volta non è stato facile abbiamo lavorato tanto e un'altra cosa da dire siamo architetti ma non abbiamo voluto progettare in questo caso abbiamo utilizzato l'architettura come un presupposto l'architettura ci è servita a identificare fortemente un luogo per attirare l'attenzione quindi l'abbiamo utilizzata come base e poi ci abbiamo costruito una storia sopra quindi lascio la parola a Chiara che vi racconterà il progetto grazie Erika il nostro progetto si intitola proprio La Via Enrose che vuole essere un'indicazione di un modo di vivere un modo di vivere che è stato rappresentato con due immagini che vi invito ad andare a vedere il pannello che rappresenta appunto il progetto del nostro studio due immagini che rappresentano il modo di vivere scellerato inconsapevole dell'uomo che si sente padrone del mondo appunto una sceleratezza rappresentata con quella che è l'intelligenza artificiale però qua l'intelligenza manca completamente la natura è diventata un parco giochi un parco giochi dove l'uomo ha continuato è proprio inconsapevole del circostante del cambiamento climatico della crisi che sta avvenendo nei nostri giorni a vivere come se il mondo fosse proprio un parco giochi e allora c'è una pisa allagata piena di gonfiabili dove in un dicembre in un caldissimo dicembre del 2045 gli uomini giocano e si divertono appunto all'interno di questo parco giochi e c'è un beach club invece rappresentato sulle rive dell'Arno noi veniamo dalla Toscana e quindi abbiamo preso due immagini iconiche due luoghi iconici appunto che pensiamo possano essere riconosciuti e riconoscibili proprio per far vedere quello che potrebbe essere un mondo governato proprio dall'acceleratezza umana un mondo dove l'uomo può assecondare ogni desiderio appunto dove l'uomo è padrone del mondo e può continuare a divertirsi senza rendersi conto e senza agire per fermare questo disastro che sta avvenendo davanti ai nostri occhi quindi vi invitiamo ad andare a vedere i nostri saluti affettuosi che sono due cartoline storiche che appunto realizzate con la I ecco questo è il nostro progetto grazie a tutti possiamo finire il video che è abbastanza attraverso grazie a tutti grazie questi erano i primi sette studi contributi adesso apriamo ufficialmente i lavori con opening remarks and opening cocktail nella lounge del manifesto dell'abitare e domani continuiamo con gli altri dieci studi del manifesto ogni giorno avremo cocktails nella lounge per cui siete invitati a tornare every single day fino a domenica grazie 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 a tutti